Sono ancora una volta segnati dalla delusione i volti dei lavoratori e dei sindacalisti che ormai da mesi combattono affinché i vertici del tour operato Alpitura cambino idea e non trasferiscano la sede di San Rocco di Castagnaretta a Torino. L'ultimo incontro sindacale, infatti, tenutosi mercoledì nella sede a Solombarna, Milano, non ha avuto esito positivo. È stato un incontro dove purtroppo l'azienda ha ribadito la posizione del 13 settembre, dove aveva comunicato alle organizzazioni sindacali di voler chiudere la sede di Cuneo e di voler trasferire 300 dipendenti a Torino. Noi abbiamo ribadito ieri, come l'abbiamo ribadito il 13 settembre, la nostra contrarietà, motivandola per le difficoltà che questa comporterebbe con le ricadute occupazionali dei lavoratori dell'azienda stessa e sia con le ricadute che può avere sul territorio stesso del comune di Cuneo. Mentre i vertici dell'alpitura e delle sigle sindacali discutevano sul futuro della sede cuneese, davanti all'edificio della Solombarta un presidio di 130 lavoratori accompagnati da diverse autorità della Granda, dal vice sindaco Giancarlo Boselli all'assessore alla provincia Giuseppe Lauria, ha fatto sentire la propria voce. Voce che continuerà la propria lotta nelle prossime settimane. Convocheremo al più presto quella che è un'assemblea sindacale per condividere assieme alle lavoratrici e ai lavoratori, come abbiamo sempre fatto dal momento della comunicazione ad oggi, condividere assieme a loro le iniziative sindacali, iniziative di lotta da intraprendere per continuare la nostra lotta. Ovviamente deve essere una condivisione con i lavoratori e con le lavoratrici di quella che può essere una lotta che deve proseguire. E in occasione di quest'ultimo incontro sindacale ha voluto lasciare la sua testimonianza a Rosella Isoardi, dipendente alpitura, dal 1976. È diventata un'azienda che non riconosciamo più. Soprattutto in questo periodo dove ci è stato dato questa notizia di questa chiusura di Cuneo per spostarci a Torino, ci siamo sentiti proprio non parte di quella che è l'alpitura. Siamo diventati un numero. Questa è una cosa che ci sconvolge, ci fa male.